L'ospedale di Battipaglia, inteso come mero oggetto di procedimento, torna con prepotenza d'attualità. All'indomani della bocciatura da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del progetto per la struttura, la sindaca disseppellisce l'ascia di guerra. Necessario però procedere con ordine. Il progetto originario, basato su fondi correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, prevedeva interventi alla struttura esistente e la nascita di un corpo ex novo che sarebbe stato utile alla congiunzione delle due costruzioni oggi esistenti. La regione campania del presidente Vincenzo De Luca, però, alla luce dello stato delle cose nel quale versi il Santa Maria della Speranza, non propriamente ottimali, ha chiesto al MEF una rimodulazione dei fondi e lo spostamento di essi su un nuovo e ambizioso progetto. La costruzione di un nuovo e grande ospedale. Il di Castero di Via 20 Settembre ha, al momento, bocciato la proposta, mettendo di fatto a rischio l'intera progettualità. Ma se da una parte il sindaco di Eboli, Mario Conte, vede riaccendersi la possibilità di un ospedale unico, meglio raggiungibile, e si dice soddisfatto della decisione del MEF, che di fatto dà ragione al primo cittadino, proponente tra l'altro di un ricorso al Tar, dall'altra la collega francese, armata di ascia e pronta a dare battaglia. Al suo fianco ci sarà ovviamente Vincenzo De Luca, ormai pronto a sfidare il governo su ogni fronte, in una sorta di risico in salsa campana. Nei prossimi giorni, inoltre, la prima cittadina invierà un documento, a detta sua, molto forte. La sanità non ha colore politico e non possiamo continuare con questi giochetti. nel mentre il bando per l'individuazione di professionisti che dovranno redigere il progetto va avanti. La scadenza è il 16 di febbraio.